Ciao a tutti, bentornati su The Games Bruio, sono Roy Lovat e oggi siamo di nuovo alle prese con Manor Lords, seconda run, stiamo costruendo un nuovo villaggio, un nuovo di zecca, dobbiamo prepararci al meglio per affrontare l'eventuale nemico, dobbiamo costruire un sacco di roba nuova, abbiamo sbloccato le carbonaie, qui io direi che è il caso di fare un altro campo immediatamente, la mettiamo play, grazie. Allora qui c'è uno, 35 ancora, questo lo lasciamo a Maggese, su 35 vai a Maggese allora, e te invece al grano e ne facciamo un altro qui di campo, stradina, grazie, facciamo una stradina qui, qui, Perfetto, dobbiamo fare anche la casina delle capre, dobbiamo fare un botto di roba, però in teoria sta andando meglio le ultime parole famose, sta andando meglio della... Che cos'è successo? Boh, c'è stato questo suono così, qui dobbiamo fare la roba della pietra, pure, questo, a vedere, attimo, oh, Morgan preciso, GG. Aspetta, facciamo così, aspetta un attimo, ok, e adesso facciamo il campo, qui, così, così, Questa fa spazio per i... no, 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 questa, fa la roba sbagliata sta fa... hello? Eh, grazie. No, 9 Morgan, va bene. Ok, 1.1, vediamo questo, quanto c'ha? Uh, come 41, ok, va bene. Vediamo alto questo, ok, allora, qui come andiamo? Qui bisogna mettere la gente a lavorare, grazie. Dovremmo costruire anche il castello, e va, arriva da una nuova famiglia, dobbiamo fare... il cibo come va qui? 3 animali selvatici, basta. C'era qualcosa nel capanno? No. Dobbiamo fare... la carbonaia. Allora, anzi, anzi, facciamo subito il maniero, grazie. Laggiù c'è un esercito nemico enorme, grazie, che bellissima cosa, noi non abbiamo nulla per difenderci. Ok, vai qua. Commit. Vai. Qui c'è uno che sta vendendo. Niente, c'è niente, togliamolo. E te vai a fare la carbonaia. E qui la mettiamo... Questo è il rifugio del boscaiolo, quindi tu puoi andare qui. La facciamo qui. Facciamo la strada. Aprele. Ok. Ok. 78. 44. Segantino? Segantino... Sono due, ma vanno lentini. Allora. Cibo qua giù. Niente. Nuova famiglia, e vai. Allora, dobbiamo fare anche qui il ferro. Ok, vai. Gua giù. Ok. Costruiteci casa. Bella questa strada che passa qui in mezzo. Boom. Dobbiamo fare anche qualche altra casa di livello 2, in modo da avere più soldi. Quindi. Livello 2. Uno. Vai. Vai. E vai. Assolutamente. Ci diamo... All'edilizia abusiva. Oh, qui non ci abbiamo messo nessuno. Curbo. Conceria. Addirittura due. Mettiamo uno perché mi sa che tanto, ma... Chi è? 50 uova. Zvaio. Rimedicazione in corso. What? È questo che sta conquistando tutte le terre? Nice. Possiamo riconquistare questo? Non possiamo. Mille... Influenza. Questo sta prendendo un po' troppa... Mappa, no? Ma noi poco possiamo fare. Lascia. Ho capito. Ok. Fatto il castello. Il nostro semplice maniero. Facciamo una strada che va di qua. E una strada che va di qua, almeno per adesso. Ok. Potremmo fare anche una strada per qua. Ok. Fico. Qua giù stanno facendo le carbonaie. Stiamo macinando? Non c'è niente. Via. Ah! E mo' ci abbiamo la farina, ma non ci abbiamo... Quello che fa il pane. Per fare il pane. Ci vuole forno. Per fare il forno. Eccole qua le carbonaie. Yey. Quasi fatte. Vai. Eccole. Mettiamoci un paio di persone. Guardate qua. Arriva al mattino sul nostro villaggino. Andiamo a vedere qui. Eh sì, sono come quelli del Circeo proprio. Ci serve un'altra vacca, ma non abbiamo niente. Ci serve assolutamente... Questo l'abbiamo finito? No? Ci serve anche il metallo, perché non inizio a fare le armi. Qui dov... Dovremmo fare le mura. Dobbiamo fare le bestie per... Come si dice? Per... Concimare. Assolutamente. Oh, ma qui stanno lavorando? Sì. Vediamo un po'. Ah, così? Guarda che bello, eh? Ciao. Da qui la conceria... E mo' è finita. Dovremmo fare qualcuno con le capre qui, ma non ci abbiamo i soldi. Abbiamo 77% di allegria. Cibo per 12 mesi. Ahimè. E' un po'. Siete in 5 a non fare niente? Ragazzino grande c'è uno. Veranaio c'è uno. Come sei uova? 53? Ah, l'altre saranno al mercato. Un altro... Nuovo cittadino. Un altro? No, sempre 6. Bancarella di legna da ardere. Ah, per salire di livello dobbiamo fare delle case di livello superiore. Lo stiamo facendo così ci dà un nuovo punto. Nice. Dai, ci manca una monetina. Che c'è che non va bene? Varietà di cibo sul mercato. E' belli di casa, lo so, ma... Qua... Allora, per adesso ne lascio uno. Poi appena vedo che inizia a lavorare ce ne metto qualcun altro. Oh! Ehm... No, infatti. Perché stanno dando precedenza alle case. Costruitemi qua il... Il forno? No? Sì? 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 Quello nel frattempo si è preso un'altra regione. Sì? Fantastico. Non ci abbiamo niente. Allora, l'altra cosa che possiamo fare è poi iniziare a prendere la pietra anche se non ci serve in realtà adesso. Questo serve più che altro per... Per venderla. Messaggio. Abbiamo ricevuto segnalazioni di una banda di incursori che vaga nelle tre qui intorno. Dobbiamo metterci sulle loro tracce. Segui i loro... Movimenti. Sì. 365 giorni. Dobbiamo prepararci al loro... Le loro movimenti. Qui tre case abbiamo fatto. Dai, ragazzi, non andate a dormire sempre. Ok, qui possiamo rimetterci uno. Ok, forno comune. Due a fare il... Il pane. No, finite ste case. Uh, guarda che bello. Buongiorno, cari cittadini. Ok, adesso questo dovrebbe funzionare in realtà. Eh, infatti c'è uno qui. Ah, 24. Prendiamo l'altra bestia, vai. Ordina un altro buone. Ole. Bene. Dobbiamo migliorare la stanga. Bene. Eh, politiche disponibili, ok, ma sono sempre le stesse che non ci piacciono. Non ci abbiamo un ricco deposito di animali. Ok, è arrivato il secondo. Perfetto. Mettiamolo qui. E ole. Nice. Nice. Adesso dovrebbe partire il bue qui. Questo? Abbiamo messo tutto a magese da bravi babbani. Magese 38, 35. No, questo. Rano. Ah, no, è questo. Ok, viene là giusto. Il bue l'ho visto, è partito da qualche parte. Dove è? Eccolo, guarda. Ti, 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 ti. Yes. Bene così. Ok, adesso ci servirebbe qua su il ferro. Se qualcuno mi facesse il favore. Perché ci servono assolutamente le armi. Ah, ah, ah. Se no, il nemico col cacchio che lo... Abbattiamo. Potremmo iniziare a mettere anche un po' di tassazione. Oh, no, possiamo fare le mura intanto. Vediamo un po'. No. Vediamo qui. Oh, a quanto pare io le murale posso fare solo qui. E' un po' sad che possa far solo qua. Qua adesso voglio dire anche una cosa, eh. Che mo' qui ci abbiamo due porte, no? Se io poi volessi fare un'altra strada. Ok. Uh, hello. Non possiamo. Abbiamo bisogno di 68 travi. Non abbiamo niente. Allora direi sì. Facciamo tassazione, allora. Al 10%. Qui non c'è niente. Qui dove ci stanno. Questi stanno a fare il pane. Questi stanno a fare il deposito. Allora potremmo ridurre di uno qua. Perché adesso in teoria abbiamo un botto di roba. Qui abbiamo finito. Mamma mia. No. Dai! 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 Bene, il campo procede. Poi qui adesso dovremmo fare la stradina così. E possiamo fare pure la stradina così. Tic. 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 Perfetto. Così dopo clicciamo quello per la pietra. Poverania lo dovevamo chiamare. Però cerchiamo qualcosa di più creativo. Poverlof. No, più creativo. Perché poverani è divertentissimo. Più... Poetico. Piede sta da costruire. Ancora sta roba. Mamma mia. Eh, il legname sta scarseggiando uno pochino. Questo tra un po' lo dovremmo spostare qui, vero? Sì? Perché così prende la... La legna più velocemente. Perché se no così... Ok. Bacche? Uh, bacche, 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 bacche. Ah, dovremmo... Fare anche questo delle erbe. Ma ci vogliono 25 soldini. Ma è finito ste case? Ma se so, un po' il 3D. Ok, qui si semina. Perfection. E ovviamente una casa sola. Ah, no, eccola qua. Vai, vai. E' questa. Così prendiamo un altro punto. Dobbiamo sbrigarci perché... E poi questo non è il nemico. Questo che abbiamo a sinistra. E' un altro così, allegro. Qui stanno... E le carote. Abbiamo un guato di uova. Eppure il cibo solo per 10 mesi. Hmm. Ci serve tantissimo legno. Sti due sono veramente lenti. Ma proprio dovremmo fare un'altra bestia. Quante ne puoi ottenere te? E va, aumentato di livello l'insediamento. Allora, adesso io direi facciamo questo. Estrazione profonda. C'è anche questo, eh. Eh, qui è tutto buono. Però forse è meglio questo per non perderlo. Boh. Perché questo lo possiamo utilizzare immediatamente. Questo pure non è male. Ci dà una bancarella permanente che fornisce introiti passivi di pane purché la regione abbia una ricchezza regionale sufficiente. Produce pan utilizzando la farina con il doppio dell'efficienza del forno comune. Converte tutti i residenti in artigiani e impedisce che vengano assegnate ad altri lavori. Ah, quelli che stanno là fanno questo. Eh, qui... Sapete che non so, perché questo... Sta roba non ci finisce. Questo ci finisce a noi. Se poi finiamo il ferro è un casino. Un viniero profondo. Eh, andiamo con questo. Andiamo con il panificio, va. Facciamo più pane. Tanto questo... C'è duemila dubito che termineremo... Duemila. Abbiamo messo la gente qui a raccogliere. Sì. Allora, qui abbiamo già fatto tutto, quindi in teoria... Adesso qua questo non ci servirebbe più. Quindi possiamo togliere questo qui e lo possiamo mettere qui. In modo che questi si sbrighino. Ah, anche qui... Allora no. Aspetta. Aspetta un attimo. Facciamo... No, facciamo prima le assi perché non ce l'abbiamo. Eh, varietà di cibo. Guarda quanto cibo diverso ce l'abbiamo. Sì. Niente grano. Abbiamo finito il pane. Ah, è già? Ottimo. Dispensa non c'è niente. Vai a prendere... Il cibo. Grazie. Ok. Allora io direi due. Grazie. E adesso possiamo potenziare le altre case, anche se non abbiamo nessuno. Allora facciamo così. Fattoria. Vai. Livello 2. Livello 2. Livello 2. Vai. Questi ma dovrebbero produrre un casino proprio di carbone. Abbiamo 35 unità di carbone. Infatti per 15 mesi adesso. Stop forse potremmo anche toglierlo, eh. Ria 1. Qui nessuno. Vai. 292 giorni. Allora c'è una strada... Eh no, facciamo le case pure. Allora dicevate che se io faccio... Lascio... Così. E che... Pille. Beh. Ok, questo va bene così. No, aspetta. No, 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 no. Facciamo prima quello della roccia. Grazie. No, qua. Ok. E poi facciamo la casa. Facciamo la strada, va? No, che dopo... Dopo non mi combaciano il rossico. A parte che non mi combacia comunque. Ehm, no. No. No, e vi dico perché. Perché sono troppo lontane dal mercato. Tanto ci ridanno la roba. Ok. Sono troppo lontane dal mercato. Quindi le facciamo qui le case. L'avevamo detto l'altro giorno. Le facciamo qui. Beh, possiamo prendere un altro. Ok. Basta. Via. Metti qua il bestiame. Vedi qui che fanno. Cavolo. Quindi noi non abbiamo più pane, di già. Quindi ciao. Scusa, avanzate qui. Niente. Eh sì, ci abbiamo qui un cavolo. Qua in teoria non ci dovrebbe essere bisogno di un'altra persona perché è qui. Credo. Che c'hai? Area di lavoro vuoto. Dove? Dove vuoi? Ma che... Ma è buca del segantino che non trova niente? O questo? I loro toni stanno trovando... Dove? Segheria? Come no? Allora, facciamo così, va. Dai, ci sono cinque persone libere. Abbiamo bisogno per fare la cinta muraria tonda di sessantotto travi. Boom. Abbiamo due monete. Fantastico. Possiamo andare a combattere contro qualcosa? Qui ci sono dei banditi. Podremmo mandare... Come si chiamano i lanceri? Lì, ma sono 20, quelli sono 18. Prendiamo gli schiaffi. Segheria terminato. Perfection. Vai. Rimetti la bestia qui. GG. Non migliorate le case. Costruite le case. Tutto. Ottimo. Guardate qui. Doppia striscia di case. Poi questo lo spostiamo, lo mettiamo qui, ci facciamo un'altra linea di case. GG. GG. Qui. Ok. Qui che sta facendo? Crescita del campo. Giugno. Qui in teoria la gente non dovrebbe far nulla adesso. Uno sta qui per sicurezza. Anche se in realtà, appunto, credo che non servano. Comandiamo. Abbiamo, abbiamo 33 minerali ferrose. Quindi direi che uno lo possiamo togliere. Avanzate. Niente, ok. E gli possiamo dire costruisci questo. Appena tolgono sta roba, magari. Oppure lo facciamo qui. Perché il ferro mi sa che lo portano qui. Esatto. Quindi dobbiamo togliere sta roba. Togliete queste? No? Allora, vediamo un po' qui. Sì, sì, qui entra. Aspetta. Allè. Asti. Perfetto. Dai precedenza a questo. Thank you. Accampamento dei banditi. Qui possiamo? Chiesa in pietra. Nice. 18 monete. Ecco, guardate qui che bello. Doppia strada. Yes. Aspetta un attimo. Alla metà. Salve. La nostra prima... Doppia strada. Andiamo a vedere le carbonaie? Andiamo a vedere le carbonaie. Vediamo la casa nostra. Eccola lassù. Hello. Gallinelle. Dobbiamo fare le capre appena avremo un po' di soldi. Qui c'è il forno. Alla basta la carbonara. C'è un pietrone. Em. C'è il sacco di carbone? Bello. Si è grattato? Andiamo. Ah, morti. Ok, perché, perché, perché? Poco cibo? Poco... No. Il potenziamento, eh, veramente ha fatto la differenza. 16 mesi di... 16 mesi di... Combustibile. Mettiamo qualcuno a cacciare. Grazie. 23. Allora. Eh, qui come va? Non c'è niente. Eh, dobbiamo mettere qualcuno. Ci servono assolutamente anche le pecore. Però possiamo fare... A questo di livello 2. Niente, perché serve 25. Dobbiamo fare questo. Ci serve anche quello delle pecore. Oh. Beh, un'altra persona. Ottimo. Lo facciamo quello delle pecorelle? Tipo qui. Così arrivano subito qua. E qui, tipo, potremmo fare. Allora. 46 minerali ferrose. Wow. Allora, facciamo sì. Abbiamo 46 minerali ferrosi. Basta. Vai qua. Anzi. Vai qua per adesso. Ah, no. Non passiamoli. Abbiamo fatto? Sì. Uno. Ok, adesso facciamo quello delle pecore. Dove sta? L'allevamento di pecore. Lo possiamo mettere qui. In modo che le pecore già stiano qui. Ok. E dopo facciamo... Sì. E ci servirà anche il mercato perché sennò le pecore col cacchio che le prendiamo. Il fatto che non ci abbiamo i soldi. Scusa, ma se ci abbiamo la tassazione così alta, no? Asse. Perché ci arriva così poco oro? Ok. Non possiamo fare quello delle capre perché poi ci serviranno i soldini per potenziare... per fare il potenziare... per fare il potenziamento del fabbricante di armi. Allora, qui. Aspetta che sta per finire la nostra scorta di animali. Vai qua. Ma perché mi prendono sto legno? Che è hell? 32... 33... Pietra... Ok. Arrivata un po' di roba. Una nuova famiglia. GG. Che si deve fare? Che cos'è? Che cos'è? Non so, ho visto gente con un carrettino. Velocino. Allora, qua... Ah, non l'abbiamo fatto. Concimazione. Ah, Gislewis. Ah, prossimo livello. Semplicemente servono... 3 bourgages di livello 3. Eh, vai, subito. Questi... Stiamo a scherzare. Chissene. Vai. 200 giorni. Te stai lavorando? Quanto pare si usa anche il carbone. 18 lastre di ferro. Che è 28. Fammi una cosa. Questo è di livello 1. Eh, mamma mia. No, allora lo facciamo. Tipo qui. No, perché così sta potenziando. Qui ci sono le galline. Serve uno grande. Qui ci sono le galline. Questo è il livello 3. Questo qui. Ah, non possiamo. Perché? Che ci serve? Deve essere di livello 2 anche questo. L'aspettiamo. Stiamo facendo questo qua. 5 persone che non fanno niente. Qui comandiamo con gli animali. 6. Bene. Come l'impressione che la gente non stia facendo nulla. Si stia allegramente grattando. 15 mesi. Sempre poco cibo. 3 giorni. Ok. Allora adesso. Mi sa che dobbiamo fare così. Fare qui così. Ok. E mettere un'altra persona qui. In modo che il raccolto sia più veloce. Adesso dovremmo avere un boost al cibo in realtà. Ok. Qui si sta migliorando. L'abitame. Che c'è? Area di lavoro vuota. Chi è? Capanna del foraggiere. Perché? Perché è finito il periodo produttivo. Fantastico. Eh. Già stanno raccogliendo. Già stanno raccogliendo. Venite tutti qua. Domanda. Qui serve la mucca per raccogliere sta roba? Quanto mare no. Ok. Quindi serve solo per coltivare. Facciamo grano. Perché qui non posso fare niente? Ok. Qui a quanto pare non posso fare nulla. I misteri. Scusa. Ma se non posso fare nulla. No non voglio che. Non ti attaccare lì. Maledetto. E adesso qui faremo quello con il punto. Faremo quello del concime. In modo da mettere le pecore. Qui. Dai su. Finitemi sta casa. 34 monetine. Ah sì stavamo dicendo che qui. Ah adesso serve sì perché devono. Sare questo campo di grano non c'è niente. Quindi mettiamo magese. Ok. Grano. Magese. Magese. Ok. Ah livello 3. No livello 2. Damn nation. Ok. Ma almeno arriverà più denaro. Allora. Prendiamo qualcuno qua. Ah è 71 però stavolta di grano. Dai. Quello va bene lì e l'altro a costruire. Anzi mettiamocene due. Dai perlomeno la felicità non è bassissima. Come non c'è niente. Ha già finito tutto. Mazza. Ha già finito tutto il minerale. Ok. Fantastico. Allora vai qua. E adesso dobbiamo costruire uno qui. Quando sarà pronto questo. Una nuova famiglia. Vai. Hanno finito qui di seminare sta roba? No. Ho detto magese qui. No. Questo è magese e poi grano. Questo è magese. Ok. Ah. Ok. Stavano coltivando cose che non dovevano coltivare. Questo invece è grano. Grazie. Da far contrario. Ero convintissimo di aver fatto. In un'altra maniera. Abbiamo finito qui? Ok. Quello delle armi. E. Questo. Vai. Rida alta. Che assolutamente dobbiamo. E che. Mamma mia. Adesso facciamo i soldati. Andiamo a spappolare quelli là perché hanno rotto. Che pillio. Ok. Grazie. Spade. Sì. E aumentiamo anche il numero di famiglie. Vai. Così produciamo subito un milione di spade. Allevamento di pecore. Fatto. Ma ci serve il mercato. Nel senso. Non si può mettere qui tipo. Non c'è questa acqua. Non c'è questa acqua. Mettiamolo qui. Vai. Abbiamo anche 80. Fammi da quanti soldi possiamo fare. 50 soldati dai. Sono sempre pochi rispetto a quelli che ci attaccheranno. Vabbè. Qui ancora niente. Qui invece va bene ma. Due bastano avanzano secondo me. Ci abbiamo più niente per la conceria. Eh no. Eh no. Qua io ce l'abbiamo. Ah pelle giusto. Vai. Perfetto. Che stanno a costruire? Questo. No. Dai per ieri da questo acqua. Una nuova persona. Allè. Qui c'è il fabbero. La signora fabbero. Qui perfetto. Oh adesso qua il bue non dovrebbe servire più. Di ciao. E lo mettiamo. Alla buca del segantino. Allè. Ok dobbiamo anche pensare dove fare il campo per l'orzo. L'orzo a me qui non c'è. Potremmo prendere questa regione. Questa regione si può prendere o... No. Il cavolo si può prendere. Aspetta un attimo. C'è questa regione. Vediamo. Vedo che fa tutto schifo. Vediamo. Vediamo. Vediamo che fa tutto schifo. Come siamo per finire la... L'orzo qui non c'è da nessuna parte. L'orzo qui non c'è da nessuna parte. Ero conventissimo che ci fosse lo... Eh qua c'è questo pezzino qua giù. C'è questo pure che potremmo prendere in realtà. Il fatto è che non abbiamo abbastanza influenza. Quindi niente. E allora proveremo a farlo qua per adesso. Vediamo quant'è. Non sarà neanche un Morgan. Mezzo Morgan. Allora fammi vedere una cosa. Se io faccio così. Ok no? Questo. Orzo 37. Ok. Se io adesso invece decidessi di fare così no? E prenderlo tipo... Così. Eh forse è troppo grande. Aspetta. Diciamo così no? 34. Vabbè. Intanto facciamo proprio questo. Che altri non credo che ci siano. Orzo. Forse qui. Potremmo fare uno. Vediamo. 26 bleh. Eh vabbè però ci serve. Arrediamo la bestia a questi. Ciao. 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 Ok. Vai. Uno. E prendiamo se possibile. Importa. Se 31 ne possiamo portare. Vabbè. Una sola. Armi. Eh abbiamo già 11 spade però eh. Dai dai. Va bene. Allora direi che possiamo terminare qui questo nuovo video. Per adesso. Per adesso procede tutto abbastanza bene. Dobbiamo assolutamente andare a ammazzare i predoni qui. Questi qua. Perché hanno scocciato. Ci sono addirittura due accampamenti. Adesso possiamo attaccarli perché abbiamo più soldati. Dobbiamo. Se fosse possibile con i punti prendere questa regione in modo da fare i campi con l'orzo e prepararci poi all'attacco degli incursori perché si sta avvicinando. Qui ancora non siamo riusciti a costruire la cinta muraria. Sarebbe bello ma vedremo un pochino. Qui abbiamo preso la pietra. Possiamo iniziare a prendere la pietra. Ottimo. I campi fanno un po' schifo. Quindi sarebbe bello avere la birra per poi far salire a livello 3 le case. Ma ce ne preoccuperemo nel prossimo video. Infatti per oggi terminiamo qui. Come sempre vi ricordo che qui sotto potete lasciare un commento, mettere like al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!